La polizia ha fermato a Pozzale i due scafisti tunisini ritenuti responsabili dello sbarco avvenuto la scorsa settimana su due imbarcazioni partite dalla costa tunisina e poi soccorse a largo. Si tratta di Aytem Daeman, 35 anni, e Chade dell'Assed, di 34. I migranti sbarcati sono stati in tutto 296. Secondo alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, uno dei due arrestati avrebbe minacciato un ragazzino di 12 anni che viangiava da solo per costringerla a dire che era il figlio, così da non essere sospettato e poi espulso dall'Italia. Una coraggiosa donna della costa d'Avorio durante le attività di investigazione si è avvicinata ad uno dei poliziotti della squadra mobile di Ragusa e ha raccontato che quel bambino, indicandolo, non era il figlio di quel signore che invece era lo scafista. Con la scusa del gioco, il bambino è stato allontanato dal presunto padre e è messo a suo agio ed è stato convinto a raccontare la verità. Il bambino ha raccontato di essere stato minacciato. Lo scafista aveva adottato questo sistema per eludere le indagini ed evitare il rimpadere in Tunisia perché i minori non possono essere espulsi e quindi sperava di poter restare qui con la scusa di essere il padre. La squadra mobile di Ragusa, oltre ad aver indagato per individuare gli scafisti, ha condotto a approfondire indagini su tutti i tunisini sbarcati e già espulsi dal territorio italiano. Al termine delle indagini sono ben nuovi i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari e che pertanto sono stati arrestati. Sette sono stati arrestati per aver fatto ingresso in Italia dopo l'espulsione, mentre due sono stati arrestati perché su di loro pendeva un mandato di cattura per traffico di stupefacenti, rapine e lesioni. Tutti e nuovi soggetti sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Ragusa a disposizione della Procura della Repubblica Iblea.